La convivialità è un gesto d'amore. Come fare l'amore a tavola? Lo dico spesso anche ai corsi matrimoniali, rivolgendomi indifferentemente ad uomini e donne. Bisogna saper cucinare, sedersi a tavola e guardarsi in faccia, andando oltre l'assunzione di proteine. Lo ha detto il vescovo di Avellino, Arturo Aiello, durante l'incontro che si è tenuto a Montefredane nella chiesa del Carmine. L'incontro, nell'ambito della manifestazione Montefredane Divino, è stato organizzato dall'amministrazione comunale e promosso dal professore Antonio Polidoro. Il vescovo ha sottolineato l'importanza del ritrovarsi a tavola. È quello il momento in cui si progetta il futuro, ha detto. Il professore Paolo Apolito, antropologo di riferimento in ambito europeo dell'Università di Roma, si è occupato dell'aspetto antropologico. La convivialità affonda le sue radici nel Paleolitico. Gli esseri umani, in tutte le culture ed epoche storiche, rappresentano la convivialità come un altissimo momento di socialità positiva ed anche negativa. Di convivialità legata alle tradizioni contadini del Sud, se ne è occupato il professore De Matteis. Nelle tradizioni culturali, il momento della convivialità è la generosità rispetto alla comunità che ci circonda. Abbiamo una serie di tradizioni culturali e religiose che ci permettono di condividere il cibo. Secondo me, non possiamo più condividere questo soltanto con le nostre comunità. Oggi dobbiamo fare in modo che questa convivialità si apra a tutte le persone.